Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io come sempre sono Aram e oggi siamo su Life is Strange Before the Storm Nonostante il mio tono di voce fottutamente felice ragazzi, sono felice solo per un motivo, perché registro e basta, non per il gioco in realtà Però va bene, ci sono tre episodi, due che dovranno uscire, noi abbiamo già il primo, episodio 1, svegliati E direi di iniziare, no? Andiamo, a cazzo d'ora Dobbiamo rovinare tutto, tutto Giocherò talmente male che... mamma mia Anche perché non vedo l'ora di finire e tornare a vedere la terza stagione di Narcos, quindi spero che non duri più di troppo onestamente Scegli con cautela, ha, cosa potrebbe mai andare storto con Aram Dai 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 Mamma mia Ma cerchiamo di non fare il cagacazzo di internet e di non lamentarci quindi dei modelli, delle texture, di tutto il resto La madonna ha i suoni Ma investita Che pullo Wow, non me lo sarei mai aspettato Sembra, sembra girare piuttosto bene Wow, che corsa Recinzione E sti cazzi Che cosa... Che cosa... Mamma mia è ribellissima, signori Potrei morire Un secondino così Di tristezza Onestamente Voi dovete capire una cosa Io odio questo personaggio L'unico L'unico cosa bella è Leggi Tre, cinque Il resto ovviamente non mi serve, no? Ne sono certo Un pandino bruttissimo Una brutta copia di un pandino Sono abituato Prendete Ha Adesso Viro fuori la lama e Faccio Ma E se io volessi finire nei guai? Questa R.V. è solo Prende Per una piccola Street Art Ma se lo faccio Qui Qualcuno Mi verrà Questa non dovrebbe essere Tipo Non mi pare Che sia Quello del primo Intanto facciamogli Un graffito Facciamogli Capire Che comanda Caramelle gratis Mente Metanfetamina Definitivamente Assolutamente Non un meth lab Ok Shit Tag La merda di David Mura del carcere Barmocchio felice La vecchia fattura La vecchia vettura Scusate Uomo bianco morto Telemovimento Megadramma Definitivamente Not Ah c'è qualcosa di Ah Max Sì Noi William David Joyce Ok Ma 4 4 4 1 10 Questo è tipo il preside No Mi ricordo qualcosina Non tanto ma Cosina Che abbia per cani Mi posso dargli poco Ma adesso rompiamo la porta E ci entriamo senza problemi Non toccare gli orellini Non toccare gli orellini Beh Iniziamo male Riflettiamo sul senso della vita Riflettiamo sul senso della vita Miles From home Home Right Now I remember why I'm here Any place is better than home Ok Basta Non posso fare niente Oh Non posso fare niente Non diamo fuoco niente Che peccato Scusate Lo so io Stupido Non c'è niente che posso fare Voglio delle scommesse Non c'era niente No eh Sono Io odio questi generi di giochi In cui mi perdo per Un non nulla E parliamo Fammi entrare Certo Va bene Durante queste sfide Ricorri a pretesti e insulti Ok Mi piace Pezzo di merda Non ricordi Non ricordi Ho capito. Non so chi sia Red Sonja. Non so chi sia Red Sonja, non so chi sia Red Sonja. Non so chi è che mi sbaglio cosa è la tua pietra. Non so chi si sta, ma non so chi sia. Non so chi sia Red Sonja, non so chi si sta, non so chi sia, non so chi sia un altro. Non mi sembra che il suo costruito? No 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 Non mi sembra il sistema? No 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 un ucciso? non mi importa cosa se avessi? potresti avere un flamethrower, un armi di ninjas robot e un mothafucki dragone e io ancora farò ahahahahahah non mi perdono sei bene figlio andiamo e butta fuori solo 11 minuti per entrare niente male intanto che c'è questo piccolo momento di pausa vi dico che i video saranno più lunghi rispetto allo scorso quindi non starò sui 10-15 minuti proviamo a farci tranciare una mano dal cane no peccato ah queste battute la droghiamo e non diciamo cosa potremmo fare ah vabbè questa cosa l'ho già vista ho visto l'inizio di un video giusto per esattamente come ti ho spiegato l'inizio è no 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 ehi hai vendito 20 bucks 20 bucks per un t-shirt non non possiamo scavallarli in tipi vicili sketch central e fallo girare sit and spit ok ok sweet dreams ombre mettiamo avanti a spin tone ecco ora saremo gentilissimi hey sei ok ok sono bene relax relax tu hai rubato in me ricordi manda quella cattiveria ma non me ne frega un cazzo ti devi solo che levare e mi ha spappato in faccia sto qua come mi si permette ok mosh pit è un no go ok potremmo 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 avere una migliore vista dell'azione da qui non posso parlare con il tipo non posso parlare con il tipo non posso parlare con il tipo se io ti spacco la faccia invece se non hai 20$ ti vedi vabbè dai vabbè dai hey ho detto che ti vedi 20$ ti vuoi essere giudato? è un po' se voglio una shirt ho bisogno di essere creativo e smetti di girarmi per favore la telecamera da tutta altra parte sorry dude maybe you shouldn't overcharge oh merda non me lo sarei mai aspettato thanks for playing dico oh yeah dolce 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 dove l'ha messa? dove l'ha nascosta? è tipo 200$ ops di certo non li prendo non l'avrei mai fatto se fossi stato max non sono più max sono più max madonna 200$ che cazzo permesso per favore permesso allora con una ragazza tranquillamente Frank ma è il tossico che nel primo gli abbiamo per sbaglio sparato sparato in una gamba che c'era che c'era c'era ma è un anno che c'era che c'era che c'era che c'era che c'era da davvero cos'era che c'era che c'era che c'era grazie frank grazie frank mi vorrei fare i ribelli hai dell'erba no grazie non c'è qua per ora poi nel secondo episodio vediamo oh yes finally made it i can't believe it dovrei emozionarmi oh 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 Ah, attacco. Cosa scappo? No, madonna. Rachele? Come on! Hurry up! Grazie a Mike, Roy. Frank, va tutto bene. Let me go, Frank! Not gonna happen! Calm down! Come on, man! Walk away! Screw this! Bullshit! Get the fuck out of here! Mmm... Okay. mi sta piacendo poteva andare peggio però mi sta tenendo incollato quindi mi posso provare a dare una chance nel frattempo